E ora ci spostiamo a Malè, in Valle di Sole, dove stamani è stato inaugurato un camper attrezzato ad ambulatorio per visite oculistiche sul territorio. Si tratta di un camper attrezzato ad ambulatorio oculistico che consente visite specialistiche itineranti sul territorio. L'iniziativa portata avanti dalla cooperativa sociale IRIFOR del Trentino Onlus con il supporto della provincia di Trento consentirà una distribuzione capillare della diagnosi precoce delle principali malattie oculari causa di ipovisione e cecità. È un ambulatorio oculistico viaggiante, lo utilizzeremo girando le periferie del Trentino, i paesini anche più distanti, per fare della prevenzione rivolta soprattutto a quest'anno che è l'anno internazionale degli anziani, soprattutto per gli anziani, ma poi anche per i bambini in età scolare. Questa mattina il camper ha fatto tappa a Malè, l'assessore provinciale alla salute Ugo Rossi presentando l'ambulatorio viaggiante ha puntato l'attenzione sul valore dal punto di vista della prevenzione di questa unità mobile che raggiungerà i cittadini del Trentino anche nelle sedi più periferiche attraverso mirate campagne di screening. Abbiamo deciso di partire dal territorio, quindi da una valle periferica come la Val di Sole, proprio per testimoniare come la prevenzione è meglio farla vicino ai cittadini, vicino ai bisogni delle persone. Al termine della breve cerimonia di presentazione l'ambulatorio oculistico mobile è rimasto un paio d'ore a disposizione dei tanti presenti e sono stati effettuati oltre 40 esami della vista gratuiti. L'ambulatorio installato sul camper rappresenta un supporto prezioso all'attività sanitaria perché consentirà una distribuzione capillare della diagnosi precoce e di visitare le fasce di popolazione più a rischio come gli ospiti delle case di riposo, gli anziani che spesso rinunciano a visite oculistiche complete per la difficoltà di spostarsi, sia nell'adulto che nell'anziano miopia, glaucoma, cataratta, retinopatia diabetica, maculopatia legata all'età e altre malattie portano la popolazione trentina ad effettuare oltre 60.000 visite oculistiche all'anno.